Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video sul Lorenzo, oggi siamo in un nuovo vlog Finalmente raga, finalmente Bo scatoia, tutto è semplice nella mia stappate Siamo qui, oh raga guarda perché mia mamma e papà Oh no Mi sa, dopo gli eri, forse Quindi raga, mi piace molto, mi viene riuscire a sconoscere che il cuore deve stare qua o qua, non lo so Ok, quindi, guardate che bel cappello Quindi raga, allora possiamo iniziare con Con le raga, la fanart non la mettete mai, perché io odio le fanart Quindi raga, non mi scrivete, Lorenzo, per favore, fai le informazioni, visto che nessuno mi ha iscritto Ma per favore, raga, voglio che tutti voi siete miei iscritti I miei iscritti, cioè voi mi dovete iscrivervi al mio canale Raga, io mi voglio talmente bene dell'anima Che mi posso pure buttare nel foco delle fiamme Mi posso pure scazzare Quindi, beh ragazzi, ci vediamo al prossimo video Se il documento mi piace anche la pagina di Facebook Che è il mio video lo trovate nella mia scocciazione Non ci vedete così, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video Beh ragazzi